accompagnata dal campione del mondo in questa gara ha tenuto per più di dieci anni il record del mondo che gli sarebbe valsa anche la finale in questa gara 1.46.69 che abbiamo signori e signori, Giorgio Slamberti Grazie a tutti Secondo posto, Italia ad Argento con tempo di 1.45.60 per la Svizzera Silver medalist representing Switzerland, Antonio Giacomini Grazie a tutti Il primo posto, Italia d'Avo, l'unica record del mondo di unione sono 42.97 in campione d'Europa per la Romania Gold medalist, european champion with a new world junior record representing Romania Davide Valdivare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Signore e signori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti